Nei giorni 21 e 22 aprile si è tenuto presso il centro diocesano Santicasso e Secondino di Sessa Orunca il seminario amministrativo sui beni culturali e sulla gestione economica della parrocchia. L'evento formativo è stato organizzato dall'Ufficio per i beni culturali della diocesi di Sessa Orunca. I destinatari di questo seminario sono i presbiteri, parroci, religiosi, diaconi ma soprattutto anche gli operatori pastorali quindi sia i consigli affari economici e sia i consigli pastorali ma anche tecnici abilitati o liberi fedeli che hanno idea e soprattutto hanno responsabilità in merito agli nostri ambiti parrocchiali o ecclesiastici e quindi vogliono avere soprattutto competenza. La prima giornata è stata dedicata alla tutela dei beni culturali. Sull'argomento ha relazionato il sovrintendente Salvatore Buonomo. Soltanto attraverso la conoscenza dell'effettivo stato di consistenza del patrimonio e delle condizioni di degrado che ovviamente auspichiamo sempre ridotti e risibili, noi possiamo ipotizzare anche di impiegare al meglio le nostre risorse già scarse ma a finalizzarle a quelle che sono le urgenze. È soltanto l'attenzione continua e costante che ci impedisce appunto di intervenire con degli interventi talvolta dispendiosi che minacciano anche la conservazione dell'integrità dell'immobile. Quindi noi auspichiamo veramente ad un controllo diretto e continuo del nostro patrimonio. Quello che bisogna fare è pensare che il patrimonio necessita di cure continue e quindi non pensare che purtroppo con il tempo migliori le proprie condizioni. È un po' come gli esseri umani, hanno bisogno di cure e quando l'età avanza purtroppo queste cure aumentano sempre più. L'amministrazione e la gestione finanziaria della parrocchia sono stati l'argomento della seconda giornata. Relatore Don Rocco Pennacchio, economo generale della CEI Gestire bene una parrocchia significa gestire considerando le risorse a disposizione come se fossero proprie e come dice il codice con la diligenza del buon padre di famiglia. Attraverso soprattutto la trasparenza si rende conto alla gente che di fatto offre i suoi contributi in modo tale che questo bene è un bene di tutti e a tutti deve ritornare. In questo momento storico penso che le maggiori difficoltà sono dovute dalle ingenti spese di manutenzione degli immobili, soprattutto delle chiese antiche che richiedono interventi continui di manutenzione ordinaria per evitare grosse spese a distanza di anni sulla manutenzione straordinaria. Le altre difficoltà che si incontrano è star dietro agli aggiornamenti normativi giuridici imposti dalle leggi dello Stato in materia di lavori, edili, di privacy, di pagamento delle imposte. Ovviamente la difficoltà più grossa è che le risorse economiche e finanziarie sono sempre insufficienti. Le due giornate si sono concluse con laboratori condotti da esperti locali di settore. Il seminario è stato coordinato da Don Roberto Gutturiello e presenziato dal Vescovo Diocesano Monsignor Piazza. Entrambi al termine della manifestazione hanno sottolineato l'importanza di una corretta gestione dei beni culturali ed economici. Questi incontri servono per creare una collaborazione strettissima tra ente ecclesiastico e quindi consigli pastorali, consigli affari economici, presbiteri che hanno responsabilità non solo canonica ma giuridica ma anche patrimoniale per quanto riguarda i beni storici perché tra sovrintendenza e gli enti ecclesiastici si stabilisca una collaborazione. Questo in modo preventivo proprio perché non bisogna guardare all'ente pubblico come un organismo esclusivo di controllo ma è un sostegno, un interlocutore attraverso cui poter preventivamente costruire percorsi per poter realizzare al meglio gli interventi che sono necessari. In chiusura è emerso sicuramente innanzitutto una partecipazione attiva e corale del laicato quindi i nostri laici sono attenti, sono attivi e sono corresponsabili di questo discorso diocesano. Seconda cosa, una maggiore consapevolezza, sia i laici e sia i presbiteri hanno avuto la possibilità di capire meglio come gestire il patrimonio tanto artistico quanto economico della singola parrocchia. Io credo che questa sensibilità debba crescere e soprattutto deve maturare nei sacerdoti e nei laici che collaborano nella gestione del patrimonio ecclesiastico quindi per quanto attiene ai beni storici soprattutto l'attenzione verso le regole che sono quelle regole e fondanti la tutela e lo sviluppo, la valorizzazione di questi beni.